Bene amici, allora siamo pronti, questa mattina andremo in centro a Bologna ad incontrare gli universitari perché abbiamo intenzione insieme a Fiocchi di avviarli al tiro a volo. Ci sarà un incontro durante il quale spiegheremo loro quale sarà l'iniziativa e poi organizzeremo una vera e propria giornata in un tiro a volo a Casalecchio di Reno. Siete pronti? Non vedo l'ora di raccontarglielo. Ciao! Marco Innocenti, il nostro Giovanni Belliero. E poi la regina di casa, Jesse Marossi. Valerio Staffelli. Per me è divertimento. Spero che possiate venire voi e tanti altri vostri amici a provare perché soltanto provando uno si può rendere conto in realtà che cosa può significare sparare ad un piattello piccolo. Amici siamo appena arrivati a Casalecchio di Reno, è arrivato Johnny Pellielo, Jessica Rossi, Marco Innocenti, tutti i grandissimi medagliati, i grandissimi campioni italiani. È arrivato anche il pullman degli studenti e a questo punto, insomma, è un po' momento magico. Andiamo ad iniziarli al tiro a volo. Ciao! 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 Amici, anche oggi magicamente, come dicevo all'inizio, abbiamo avviato questi giovani universitari di Bologna al tiro a volo. Grazie quindi sia all'Università che a Casalecchio di Reno che ci hanno prestato la location. Grazie a Fiocchi che ha contribuito ad avvicinare questi giovani al tiro. Grazie anche a Kia. A questo punto è arrivato il momento di andare a mangiare perché siamo in piedi dall'alba. Ciao! Vi aspettiamo alla prossima iniziativa con il tiro a volo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!